Ciao a tutti, oggi sono qui per farvi vedere come creare una scritta love con la tecnica wire quindi spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo cosa ci occorre un metallico filo di rame molto morbido una matita, un foglio di carta, delle pinze a punta conica, una tronchesina e una lima o della carta abrasiva ho tagliato più o meno 30 cm buoni buoni di filo e ora vado a limare le punte poi per adrizzare bene il filo, per non lasciargli delle pieghe brutte prendete delle pinze piatte e le ricoprite con del nastro carta poi prendete e strisciate in modo da togliere tutte le pieghe brutte quindi ora iniziamo con scrivere la scritta love nel vostro foglio anche molto grande, quindi bella grande e dopo la andate a fare più piccola con il vostro filo in questo love, andate a fare un'asola perché questa scritta la andremo dopo ad attaccare in una nostra creazione poi più o meno a metà sto cercando di farlo un po' guardate il filo è così morbido che si può benissimo lavorare con le mani quindi love quindi per fare la love prendo il mio ditto lo vado ad avvolgere la love poi ovviamente andrà un po' aggiustato poi la v quindi per fare la v faccio questo spero si vedono love quindi faccio questo poi ne faccio ancora un altro spero questo lo faccio con la pinza e poi sempre con la pinza vado a fare la v ben bene love poi per fare la e quindi guardate spero si veda, non voglio fare lo zoom non posso neanche avvicinarmi troppo perché sennò non ho più luce quindi love adesso vado a fare la e quindi per la e vado da una parte con la parte più più bassa della forgi della pinza ecco quindi vado a fare la re in questo modo e taglio un pezzo ecco taglio un pezzo e vado a fare se volete potete fare un piccolo infatti io voglio realizzarlo e dicio ed ecco qua la nostra scritta love questa qua bisogna un po' sistemarla l'ho fatta molto veloce vediamo un po' spero vi piaccia eccolo qua metto più in qui la scritta ciao ciao e alla prossima avete visto quanto è carina questa scritta love quindi ci vediamo al prossimo video quindi iscrivetevi commentate mettete mi piace e se volete condividete grazie ciao 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 Grazie a tutti.